Niente riesame ma ricorso per saltum direttamente in Cassazione. L'avvocato Pasquale Franco Fistetti, che difende uno degli indagati nell'inchiesta sulla presunta associazione per delinquere finalizzata alle forodi assicurative promossa secondo l'accusa dall'ex vice sindaco di Francavilla Fontana Luigi Galiano, ha scelto una linea piuttosto originale, sicuramente rischiosa, per una strategia difensiva da all-in che punta piuttosto che al riesame e all'annullamento diretto dell'ordinanza di misura cautelare ai domiciliari a carico del suo assistito. Questo perché, secondo il ricorso presentato dal legale, ci sarebbe un vizio di legittimità legato all'assenza di attualità per i presunti reati commessi. In estrema sintesi, trattandosi di eventuali reati commessi fino al 2019, non vi sarebbero oggi rischi circa la reiterazione degli stessi o l'inquinamento delle prove su cui invece puntava proprio l'ordinanza firmata del GIP Maurizio Sasso. In attesa che venga fissata la Camera di Consiglio, l'attenzione si concentrerà sull'udienza dell'esame di venerdì, quando i giudici del Tribunale della Libertà saranno chiamati a valutare il ricorso presentato dall'avvocato Michele Fino, che difende invece i due indagati accusati di estorsione aggravata. Strategie diverse, per posizioni diverse. Eppure è sempre evidente che tutti i protagonisti di questa vicenda, per un totale di 162 indagati a fronte di 12 arresti eseguiti dalla Guardia di Finanza di Francavilla Fontana, puntino ad ottenere la libertà.